12 abiti che sono unici 12 creazioni vere proprie proprio perché nessuna donna deve essere uguale ad un'altra quando indossa un abito di roxana pansino e tra l'altro sono abiti già preziosi in sé ma che ancora di più lo diventano grazie alla maestria orafa allora come nasce questo connubio gioielli studiati apposta per abiti assolutamente diciamo che questo progetto nasce un progetto nato dall'amore dall'amore tra me e mia moglie lei è una stilista di abiti io sono un gioielliere per cui abbiamo tentato di fare questo connubio tra le parti e come tutto ciò che unisce me e lei unisce anche i nostri abiti con i nostri gioielli maestro orafo oggi è una vera e propria rarità si conoscono brand importanti ma quanto rimane di manuale in questo lavoro che io trovo straordinario intanto proprio dalla scelta dei materiali che sono preziosi assolutamente è tutto un 100 per cento di lavorazione manuale quindi è tutto fatto a mano sia partendo dagli abiti che dai gioielli sono state prese in considerazione appunto il fatto di impreziosire gli abiti con dei diamanti pietre preziose per rendere molto tutto molto più esclusivo mi hanno colpito in particolare ci sono dei gioielli che sono secondo me una novità assoluta ma poi soprattutto un inedito sempre lo ripetiamo gioielli studiati apposta per impreziosire gli abiti tant'è che tu li indossi sopra i vestiti o con i vestiti insieme ai vestiti e allora attenzione c'è un dna ricorrente come tema perché a me ha colpito tantissimo assolutamente questo il dna è proprio frutto del del nostro primo progetto è il primo pototipo quindi come se fosse un pochettino il simbolo di una nascita il simbolo di una creazione quindi abbiamo voluto rappresentare questo dna sia nel nostro logo e sia nelle nostre creazioni e a proposito di nascita di dna due genitori stupendi già di una creatura stupenda in attesa del maschietto per avere la coppia perfetta e quindi dal momento che siamo sotto natale i vostri personalissimi auguri ai nostri utenti lascio a te l'incarico perché roxana è timidissima assolutamente auguri del buon anno e il buon natale a tutti voi che ci seguite grazie mille grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti